Da terreno inquinato, contaminato e abbandonato per anni ad un parco con oltre 300 specie vegetali fra alberi, arbusti, cespugli e persino un laghetto. Prosegue così la bonifica naturale del sottosuolo dell'ex AMGA, terreno compreso fra centro direzionale Benelli e via Morosini. Un'operazione innescata dopo l'accantonamento dell'iniziale progetto di rimozione della terra inquinata del sottosuolo. Ora si procede con la bonifica attraverso fitotecnologia ambientale, operazioni condotte a braccetto dagli studi dell'Università della Tuscia assieme a Comune di Pesero e ARPAM. Una bio-fitobonifica che è stata divulgata nelle sue fasi procedurali scientifiche in un appuntamento tenutosi nei giorni scorsi in provincia. L'intervento ha l'obiettivo di recuperare la parte residuale di inquinamento presente nell'area, quindi dopo che è stata fatta la prima parte di scavo, rimozione di sorgenti primarie di contaminazione, rimangono i terreni con la presenza ancora di contaminanti a varie profondità. Quindi abbiamo agito attraverso quella che si chiama bio-augmentation, cioè l'inserimento di microorganismi degradatori raccolti nel sito, moltiplicati e li abbiamo reinseriti scavando delle trincee. Questo impianto e questo inoculo lo abbiamo sfruttato e accompagnato anche con la vegetazione, arborea, arbustiva, erbacea, che accompagna il processo e gli dà sostenibilità anche in futuro, generando quindi un sistema più articolato, vitale, che genera subito una serie di benefici ambientali e nel frattempo procede la bonifica attraverso la degradazione dei contaminanti organici ancora presenti. La cosa particolarmente innovativa è il fatto che con questa tecnologia di bonifica oltre ad ottemperare quindi all'obiettivo principale che è la bonifica dei terreni contaminati, avremo con la piantumazione di questa vegetazione anche ulteriori benefici ambientali, tra cui appunto la rimozione della CO2 atmosferica, abbiamo anche una riduzione dell'irraggiamento solare dovuto agli edifici circostanti e un aumento degli habitat, quindi un beneficio nei confronti della biodiversità del sito e sicuramente un miglioramento delle percezioni visive del luogo e questo risulta essere un aspetto fondamentale proprio perché il sito in cui ci troviamo è un sito che si trova in un'area, in un contesto residenziale, quindi fortemente urbanizzato e antropizzato e anche l'occhio quindi sicuramente ha bisogno della sua parte. Area residenziale che avrà bisogno di almeno altri cinque anni prima di essere percorribile dai residenti. Il progetto ha una sua definizione temporale nei cinque anni che si basano su monitoraggi ripetuti e continui, quindi in accordo ai monitoraggi poi ci saranno scelte eventualmente da fare in fase di destinazione o chiusura o collaudo della bonifica avvenuta eventuale. Un caso, quello dell'ex AMGA che negli ultimi anni è stato seguito passo passo dall'assessore Aidi Morotti che nell'incontro tenutosi in provincia si è rivolta agli studenti del Marconi e del Cecchi per enfatizzare l'impatto umano alla base di questa vicenda. Quando parliamo di bonifica noi stiamo cercando di far capire l'importanza che la bonifica dell'ex AMGA ha per la città, però bisogna fare un passo indietro perché se non ci fosse stato un intervento impattante dell'uomo non ci sarebbe stata la necessità di fare una bonifica. Pertanto quello che ho voluto far capire ai ragazzi è che qualunque tipo di comportamento noi abbiamo nei confronti dell'ambiente circostante, della natura, della nostra città in generale e di tutto il mondo poi perché vale un po' per tutti, si ripercuote un po' a tutti i livelli nelle generazioni successive. Avremmo potuto fare delle scelte diverse perché l'ex AMGA avrebbe potuto essere bonificata con costi diversi, con tempistiche diverse, facendo un grande cratere portando via con lo scavo tutto quello che era inquinato ma non avremmo fatto altro che trasferire il problema dal luogo nostro fino al luogo della discarica, quindi trasferire un problema di inquinamento dalla nostra popolazione alla popolazione che avrebbe vissuto vicino agli impianti che avrebbero ricevuto questo materiale inquinato. Si è scelto di avere un approccio totalmente ecologico, un approccio anche una forma di economia circolare, nel senso che abbiamo ritenuto di mantenere tutto quello che era nel sito, sia il bene che il male, di trasformarlo usando i batteri del sottosuolo che erano già presenti e moltiplicandoli, innestando nuove piante, depurando l'acqua per usarla nel laghetto e per fare poi l'innaffiamento della zona verde, quindi abbiamo cercato di essere totalmente sostenibili e di usare tutte le risorse che era possibile mettere in campo nel sito e sul sito. Grazie a tutti.